L'idea imprenditoriale è quella di produrre su scala industriale e commercializzare e di biopack spray. Un biopackaging smart, altamente innovativo e totalmente ecosostenibile, che si propone come una piccola ma significativa soluzione a due problemi di carattere globale. La necessità di una radicale sostituzione delle plastiche tradizionali. La seconda problematica è rappresentata dallo spreco alimentare. Questa vera e propria emergenza può essere contrastata anche attraverso sistemi in grado di prolungare la shelf life del cibo, il tempo utile entro il quale un alimento viene consumato in qualità e salubrità. L'azione protettiva delle pellicole non è però in grado di offrire un significativo contributo al prolungamento della shelf life. Ed i biopack spray è un prodotto di facile utilizzo, una bomboletta spray a tecnologia a bovo, che una volta spruzzata sul cibo forma uno strato di spessore ultrasottile, biofilm, totalmente commestibile in quanto costituito da sostanze naturali e da tossiche, in odore, in sapore, in colore, rimovibile con acqua. Il biofilm spray trova nella sua formulazione la sua funzionalità, grazie all'azione congiunta di due dei suoi costituenti, il chitosano e gli oli essenziali di erbe romane. Ed i biopack spray coniuga ecosostenibilità ed incremento nella shelf life in un prodotto semplice, naturale, innovativo, destinato a consumatori domestici, settore oreca e GTO.